In Piemonte nasceranno le palestre della salute e del benessere, strutture in cui fare attività fisica su prescrizione del medico di base. E' quanto prevede una proposta di legge illustrata nel corso di una conferenza stampa dal presidente dell'assemblea legislativa e dei primi firmatari. Noi abbiamo la responsabilità di spiegare che la somministrazione fisica è un farmaco. Quindi con l'attenzione fisica, con le buone pratiche e l'attenzione alimentare aumenta il benessere della persona, risparmiamo soldi per la sanità. E le palestre della salute servono per creare una sorta di regia interdisciplinare tra le ASL, la medicina dello sport e il laureato in scienze motorie per le persone affette di queste patologie. Si tratta di un tassello che si inserisce nel quadro più complesso che è la rivoluzione culturale delle buone pratiche che noi vogliamo far decollare a partire dal 2017.